Il ruolo delle comunità energetiche nella transizione ecologica, il tema al centro del convegno promosso dall'Università degli Studi del Sagno a Benevento, il confronto nel complesso di Sant'Agostino per presentare un nuovo modello che prevede la condivisione e la partecipazione dei cittadini. Il ruolo delle comunità energetiche è determinante poiché la transizione ecologica ha come pilastro un grandissimo incremento dello sfruttamento delle fonti rinnovabili. Con questo paradigma che rappresenta una completa modifica per cui si parte appunto da un meccanismo democratico dal basso in cui la popolazione, i privati cittadini, gli enti condividono degli impianti. Ma c'è anche un altro aspetto che riguarda direttamente la società. Hanno ovviamente dei fini logici di ridurre i consumi di energia primaria, di ridurre le emissioni prima alteranti, ma c'è anche un'ulteriore possibilità. Cioè che queste comunità aiutino i più deboli, cioè quelli che si trovano in condizioni di povertà energetica. Diverse infatti le proposte di progetti presentati dagli studenti. La nostra proposta è quella di fare in modo che sia lo stadio che la comunità circostante, in particolare il progetto prevede circa tre scuole, che potrebbero usufruire della comunità energetica e quindi condividere carichi. Un esempio di comunità energetica che si è formato è quello di Ricco Massimo, un piccolo comune in provincia di Trento, in cui la locale cooperativa elettrica storica ha portato alla realizzazione di questo nuovo impianto fotovoltaico a servizio di circa 50 famiglie all'interno di questo comune.